Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì 22 ottobre, benvenuti, benvenuti a Mattino Insieme. Si sta molto parlando in questi ultimi giorni di vaccino, di vaccino contro il covid, mentre purtroppo i casi continuano ad aumentare sia a livello locale che a livello nazionale, abbiamo sentito i numeri delle ultime ore. Noi questa mattina Mattino Insieme avremo ospite Massimo Pizzato che è il responsabile dei laboratori del Cibio e con lui parleremo proprio di vaccino, uno veramente degli argomenti che sta sollevando molto interesse ovviamente. Il nostro primo ospite di questa mattina è Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina. Buongiorno Diego. Buongiorno Marco. Che come tutti i giovedì ci aiuta a capire meglio i fatti, ci aiuta meglio a capire quello che accade nel nostro Trentino, ma non solo. Diego, innanzitutto l'apertura questa settimana di Vita Trentina l'avete dedicata al Giro d'Italia che lo sappiamo proprio in queste ore, in questi giorni sta toccando il nostro territorio. Sì, era una ventata rosa in queste giornate che un po' incubiscono, vista anche la crescita dei contagi, lo spettro di dover ritornare in una situazione che pensavamo di aver lasciato definitivamente alle spalle. Ecco, una ventata rosa non come diversivo, ma anche per documentare come una manifestazione così popolare, anche se posticipata in autunno, può forse portare un po' di speranza, un po' di fiducia. Ecco, il fatto che questa bolla, facciamo riferimento nel titolo, di protezione dei ciclisti, che finora abbia retto, può essere già un segnale di speranza, abbia consentito comunque anche a tanti tifosi appassionati, come vediamo in queste immagini, di poter stare all'aperto, veder passare la carovana del Giro, che è sempre uno spettacolo unico. Il nostro collega Marco Mazzurana, insieme al fotografo Gianni Zotta, Giovanni Melchiori, è salito sulla piana delle Viote, imbiancata di neve, e ha registrato le emozioni, anche la curiosità, la partecipazione di tanti trentini, che provenienti anche da Valle Diverse, non sono voluti mancare a questo appuntamento con la Maglia Rosa. Poi, su questo tema, abbiamo offerto anche ai numerosi cicloturisti appassionati del pedale della nostra provincia, due pagine speciali che non vogliamo scoprire qui, ma che sono dedicate alle dieci salite ciclistiche più importanti del Trentino, quelle che non si possono proprio mancare, una curiosa guida, che si accompagna anche all'interesse che sul web ogni giorno vogliamo porre alla Corsa Rosa, quest'anno davvero inedita. Sì, una corsa decisamente inedita, perché anche in questo caso, anche sul giro, chiaramente ci sono le norme molto rigide anticontagio, e devo dire che effettivamente anche quelle pagine speciali che non vi proponiamo, perché casomai ovviamente i telespettatori andranno a comprare il settimanale di Occesano, sono veramente molto molto interessanti. Poi, fate riferimento, non potreste non farlo, a quell'indagine della quale si è parlato molto, è scattata la scorsa settimana, ma poi le ripercussioni si sono viste praticamente per tutta la settimana, a quell'indagine che ha visto appunto questa presunta organizzazione criminale che operava nella zona della Val di Scembra, ma non solo. Sì, è il fatto della settimana e riteniamo che non possa essere archiviato troppo rapidamente. Dicevi bene, presunta però, è da anni che si parla di queste infiltrazioni, il fatto che figurino dei nomi che poi sono stati anche nei nostri consessi comunali, pone degli interrogativi rispetto al consenso che queste persone hanno ottenuto in passato. Su questo tema proprio della vigilanza, della partecipazione sociale, che poi è il vaccino migliore per prevenire le infiltrazioni mafiose, si sofferma l'analisi delle acri provinciali. Il presidente Luca Oliver prende spunto da questa vicenda per dire che forse in passato si è sbagliato a non dare troppa attenzione alle voci che salivano anche dalla cosiddetta società civile, da chi sul territorio era anche più esposto nella denuncia. E nello stesso tempo richiama la necessità di mettere in atto anche una formazione nuova che sia attenta a creare amministratori che abbiano competenze anche per saper individuare eventuali comportamenti malavitosi. Il lavoro che le acri stanno facendo con i cicli di incontri e costruire comunità va proprio in queste direzioni. Poi ricordo che anche Vita Trentina è stata negli anni Ottanta fra le testate più impegnate in quegli anni lavoravano il giornale per segnalare qualsiasi tipo di discriminazione. In particolare allora erano i portoghesi, quest'anno sono i cinesi. E ricordo che denunciamo anche un interesse un po' sospetto rispetto ad iniziative all'estero, in Sud America, in particolare all'Argentina, che si presentavano non proprio completamente immuni da una reale attenzione alle condizioni di lavoro e alla dignità dei lavoratori sudamericani. Restando proprio all'estero, voi questa mattina proponete un focus sulle elezioni americane. Ormai, lo sappiamo, siamo agli sgoccioli e avete affidato proprio un punto di vista a Gianni Bonvicini, che tutti chiaramente conoscono, e il titolo proprio di questo articolo è L'Europa teme il bis di Trump. Ecco, Bonvicini su che cosa ragiona? Ma si sofferma anche su alcune ricerche demoscopiche che dimostrano come fra i leader europei l'atteggiamento di fiducia verso il partner americano sia molto calato e come una serie di disdette, di pronunciamenti, anche di atteggiamenti del presidente Donald Trump abbiano portato i paesi europei a essere piuttosto uniti nella preoccupazione per un'eventuale riconferma per quattro anni del leader, del presidente Trump. E Bonvicini che è nostro editorialista mette in evidenza anche quali possono essere poi le conseguenze nello scenario politico nazionale anche in relazione alla situazione di multilateralismo che si sta facendo avanti. Nelle pagine interne poi fate riferimento e tornate ad occuparvi del fenomeno migratorio con un articolo che mi pare intitolato Ponte d'acqua tra civiltà e culture. Sì, abbiamo ripreso il dibattito interessante che c'è stato a Pergine sabato scorso e offriamo poi, questa è una nostra attenzione costante, altri elementi che vengono dalla mostra che si è tenuta sempre a Pergine, da un nuovo libro di Giorgio Antoniacomi e anche da un bel libro di racconti di Angela Tognolini che sono stati pubblicati in buona parte anche sul nostro settimanale. A proposito di racconti per gli appassionati di gialli non perdete in questo numero Mauro Neri con il suo ispettore. E poi parlate del festival oltre la secolarizzazione. Sì, è una novità di festival. La città ne aveva molti. Questa è un po' un'edizione zero perché era partita con un programma diverso in periodo pre-lockdown. Abbiamo ospiti importanti, però soltanto a distanza. Domani Massimo Cacciari e Andrea Riccardi che ragionano sull'Europa e sul cristianesimo. Ecco, come vediamo anche in queste immagini della conferenza stampa di presentazione, protagonista, promotrice è proprio la diocesi. Qui vediamo Don Andrea De Carli e Don Stefano Zeni con l'Istituto Romano Guardini insieme alle edizioni ideoniane di Bologna. Sabato mattina altre due tavole rotonde molto interessanti. Tutto è possibile, visibile in web, sui canali YouTube, sia della diocesi che delle ideoniane. Io adesso ti chiederei un commento, Diego, perché ha fatto parlare, è proprio il caso di dire, tutto il mondo. Hanno fatto parlare le affermazioni di Papa Francesco fatte nelle ultime ore. Lui di fatto ha detto sì alle unioni civili e a quella forma di famiglia. Le unioni civili, lo sappiamo, ovviamente in Italia ci sono già ormai da quasi cinque anni. Lui poi mi pare si riferisse a unioni civili anche in altre zone del mondo. Ma tu la ritieni? Questa è storica questa affermazione di Papa Francesco? Intanto l'elemento un po' discriminante ti è scappato quello delle persone con orientamento omosessuale. Evidentemente è quello che fa principalmente notizia perché rispetto ad un riconoscimento legale del sostegno fra persone tra loro in difficoltà o conviventi non ci sono mai stati problemi, ci sono stati pronunciamenti obvi. Intanto va chiarito così che questa dichiarazione è stata fatta dal Papa nell'ambito di un'intervista e sappiamo come spesso Francesco ricorre un po' a queste opportunità un po' meno ufficiali per comunque indicare uno sfondo del suo ragionamento che poi è ancorato a documenti precedenti oppure viene ripreso in modo più sistematico in interventi successivi. Da questo punto di vista il pronunciamento è importante. Qui dovremmo fare molta chiarezza sui termini, non si parla di matrimonio, non si parla di nozze fra omosessuali. Il termine giusto è la copertura legale. Ecco, è evidente che nell'attenzione della Chiesa le persone in qualsiasi situazione si trovano e nel rispetto pieno della dignità di ogni persona è evidente che anche chi vive una situazione di convivenza o di relazione omosessuale ha diritto, dice il Papa, ad avere una copertura legale qualora ci sia appunto un rapporto di convivenza, di relazione, di sostegno reciproco. Questo poi è il termine. Ma questo può valere appunto anche per altre forme di relazione, come può essere tra una persona anziana ed un convivente più giovane, tra persone che hanno scelto comunque di vivere insieme come conviventi. Quindi direi che l'importante in questo caso è cogliere l'intenzione principale del Papa, che non entra mai sul piano poi della norma specifica, del diritto. Offre il criterio interpretativo, poi è chiaro che la norma, e l'abbiamo visto anche in occasione del disegno di legge italiano, che per alcuni aspetti si presentava innovativo, aveva anche degli elementi però di debolezza sul piano giuridico e quella è una mediazione più complessa. Passare dal principio, dall'affermazione di un valore, di un criterio da riconoscere, poi alla sua declinazione in norma di diritto, in articolo di legge. C'è poi qualcos'altro che ci vuoi segnalare, che magari mi è sfuggito subito a trentina di questa mattina? Ma sei sempre molto attento, devo dire. Se proprio accennerei al bilancio dell'Arcidiocesi, è vero che è il terzo anno che viene pubblicato, quindi non è più una novità, però è interessante, ecco, questo tentativo di fare trasparenza anche rispetto ad alcune realtà, come la Casa del Clero, altri enti convenzionati con l'Arcidiocesi. È un contributo di informazione anche per tanti cristiani che magari non sanno a cosa sono destinati i fondi che vengono raccolti. E poi, se mi consente, anche l'editoriale che punta l'attenzione su quello che vivremo a San Zeno domenica, la giornata clou dell'ottobre missionario, avremo collegati, con il Vescovo che celebrerà a San Zeno, anche cinque missionari trentini che si raccontano in questo mese missionario. E altri due hanno scritto apposta, uno dal Gana, l'altro dal Cile, a Vita Trentina, pagina 31. Sono due missionari inonesi, tra l'altro, che ci spiegano con un po' di sano orgoglio valligiano, perché davvero San Zeno può essere considerata la culla missionaria della nostra Chiesa. Io ringrazio molto Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina, che appunto tutti i giovedì ci aiuta proprio a capire meglio i fatti, quello che accade in Trentino, ma non solo. Grazie infinite Diego. Grazie a te e buona giornata agli amici che ci ascoltano.